C'è preoccupazione per il destino di 55 lavoratori della Pilkington di San Salvo. Il 24 settembre scadrà la cassa integrazione e sul loro futuro al momento non ci sono certezze. Per questa ragione le sigle sindacali si sono incontrate in mattinata con i vertici aziendali. È emerso che loro sono stati a Roma al Ministero e il Ministero ci ha dato qualche speranza rispetto a una continuazione della cassa integrazione per ulteriori sei mesi. Però è tutto un attimino ora da fare una richiesta entro domani perché deve essere continuativa quella che abbiamo e poi si vedrà la risposta. Bisogna vedere anche i fondi che ci sono perché sono istanziati dei fondi ma non sanno se già sono finiti oppure se ci sono ulteriori fondi da poterci dare. A proposito di questi fondi farete un incontro lunedì in regione per capire come stanno le cose? Sì, lunedì andiamo in regione per vedere anche là cosa possono metterci loro anche perché loro sembra che abbiano 27 milioni per le aziende e ancora fanno nessuna destinazione di questi soldi e cerchiamo di vedere se ci possono aiutare rispetto al nostro piano che continua ad andare avanti. Franco Zerra della CISL, il piano industriale è uno strumento di salvataggio per questo territorio? Sì, certamente l'obiettivo che noi ci siamo posti l'anno scorso rispetto alle dichiarazioni che faceva la Pilkington di prospettive di un certo tipo dove si parlava di sub e via scorrente abbiamo fortemente voluto e preteso il piano industriale che riuscisse a poter dare risposte a quelle che erano le variazioni che nel mondo dell'automotive stanno avvenendo. Un piano industriale che ci abbiamo fortemente creduto dove si parla di innovazione, di prodotte e di processi a livello di San Salvo e dove in una certa maniera ci può dare la possibilità di una prospettiva futura un po' più serena rispetto a quello che si sta, almeno in questo momento, attraversando. Emilio Di Cola, il mercato dell'automotive negli ultimi mesi, nell'ultimo anno è in decrescita. Ecco, numeri che preoccupano? Beh, questo è un altro tema che si va ad aggiungere alle preoccupazioni che hanno già esternato i miei colleghi. Purtroppo i dati del mercato dell'automotive non ci aiutano in questa fase. Quando abbiamo siglato il piano industriale, che colgo l'occasione per rivendicare perché grazie a quel piano oggi stiamo parlando di gestione di pochissimi esuberi, purtroppo non c'era questo tema, il mercato era in risalita. Invece il trend del 2019 è completamente in discesa, molto probabilmente ci saranno circa 2 milioni e mezzo di vetture vendute per la fine dell'anno e questo sarà un ulteriore problema.